Con una sola padella prepariamo un secondo delizioso In una padella molto larga, lascio scaldare a fiamma bassa per 5 minuti l'olio assieme agli spicchi d'aglio, i gambi di prezzemolo e le zeste di limone Trascorso il tempo, alzo un pochino la temperatura e sistemo i filetti di orata con la pelle rivolta verso il basso Come cucini di solito il pesce, al forno o in padella, mi piacerebbe saperlo Non appena cambiano colore, circa 2 minuti, giro e proseguo la cottura Ti avevo detto che avremmo usato una sola padella Nel fondo di cottura posso unire i pomodorini che ho già tagliato Faccio sfrigolare circa 10 minuti o finché la polpa non sarà ammorbidita Quindi rimuovo gli altri ingredienti e faccio spazio Poi verso i filetti di orata sui pomodorini Aggiungo il sale e faccio cuocere un paio di minuti ancora, il tempo di far insaporire Giro delicatamente e servo con il prezzemolo tritato Scrivimi se ti è piaciuta la ricetta o se hai altri suggerimenti per migliorarla Alla prossima!